Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Riccardo, sono un life coach, ho 30 anni ancora per poco e cosa dirvi, è il primo video che faccio da ufficialmente diplomato. Mi sono diplomato sabato sabato ho ricevuto la consegna del diploma in via virtuale perché la mia accademia è situata a Milano mentre io abito a Grosseto ormai da quasi due anni di nuovo ma non sono qui per parlare strettamente dei miei traslochi sì sicuramente anche di me però non in funzione dei miei traslochi bensì in funzione della trasformazione che ha subito questo canale ho deciso di non cancellare nessun video, ho ripulito solo Instagram perché comunque è una parte di me che non rinnego semplicemente ho deciso di dare una nuova impronta a questo canale, non che non ci siano, saranno parentesi personali però ho deciso di improntare maggiormente questo canale sulla crescita personale, sul self care, sull'autostima, sulla cura di sé e tutte queste belle cose che mi hanno accompagnato per due anni uno di master con altri ragazzi che saluto se mai mi vedranno e uno di tirocinio, cosa significa tirocinio? significa messa in campo, significa mettere in pratica quello che si è studiato con clienti veri temi veri, problematiche vere io ho deciso in particolare di occuparmi di low coaching o coaching delle relazioni in italiano perché, come dire, lungi da me portare grossi giudizi però quando non sono coach, quando sono semplicemente Riccardo ho avuto la sensazione che attorno a me ci fosse bisogno di sbrogliare delle matasse che sicuramente avrei potuto in parte sbrogliare con l'empatia e con la sensibilità ma che non sarebbe guastata una impronta professionale in più e quindi eccomi qui con un anno di tirocinio in low coaching e sono ansioso di mettere in pratica quello che ho studiato sto aspettando la parte burocratica ma nel frattempo adeguo le mie piattaforme social soprattutto quelle che non usavo tanto tipo youtube e instagram in funzione dell'impronta che voglio dare alla mia vita lavorativa e anche personale perché fino a questo momento ero disoccupato su tutta la linea e adesso mi sto impegnando per costruire la mia professione quindi io vi saluto vediamo se questo esperimento funziona vediamo se a questo seguiranno altri video più approfonditi e magari anche più lunghi se vi va ci vediamo alla prossima volta fatemi sapere ciao